Allora, Venegono Radio 12855, danno informazioni 124925, poi navigazione abbiamo Malpensa-Vor, 1.3, ultimali 3.5, stand-by andiamo a mettere Biela-Vor che è 116.1 e lo abbiamo, poi la prima radiale che dobbiamo andare a prendere, la 040 su Malnette, poi andiamo anche a VOR, VOR, ora VOR di, aspetto direttamente Biela che è 1050, e test in stand-by quello di Biel 422. Sì, 7000, radio, on and set, strumenti motore in arco verde, non ci sono ancora. Benegono Radio, good morning, IndiaFxH, FxH, Alfa Eco. VOR, Biela-Vor, Good Morning. IndiaFxH, Alfa Eco, Charlie172, via fast flight with no flight land from Vennegono-On2, VNW, with a C&BL, request this information. VOR, B-36, preferential, K&H-1030, taxi all show 36, via alta. RANU36, K&H-1030, IndiaFxH, E-REP, ALFA. Venegono, India, Golden, Hotel Romeo, Downwind, 3-6 Romo, Venegono, Roger, Porto, Final, 3-6 We report, Final, 3-6, Hotel Romeo Verde, informazioni rullaggio ottenute, briefing rullaggio uscito dal parcheggio destra, center line, raccordo centrale, raccordo principale, sinistra, alfa line, alfa point luce rullaggio on, luce navigazione on, elettore carburante divertire freno parcheggio rilasciare, freni adesso li controlliamo e il giro adesso lo controlliamo Bene, check Destra, libero a finì Nine Pro, pro, la bussola gira ed è coerente Il giro gira ed è coerente Il giro sbandometro è coerente Va tutto bene Il wind adesso Il wind dopo Allora Allora Venegono, India, Charlie, Charlie, Bravo, Fox, e good point Luce, taxi Off In posizione eretta Venegono, to Venegono Mantening Medivi e cinture bloccati India, India, 12, port We are the Pakistan Portiere, finestrini, scusi Bloccati Abri Comandi di volo Liberi e corretti E corretti Ehm Ehm Yeah, Charlie, Charlie, Bravo, Fox, Venegono, Roger, 36, preferential Mars Di volo liberi e corretti Quantità di carburante Check Full Full Richel Richel Seletore carburante Bo manetta 1700rpm aria al carburatore c'è caduta c'è una leggera caduta, non abbiamo risalita, non abbiamo piaccio magneti massima 125, differenza 50, check miscela, check idle cutoff check, vacuum in arco verde, strumenti, motore in arco verde amperometro, vero, non c'è la spia abbassamento spia check manetta 1000 manetta regolata flaps 1100rpm, 1200rpm, 1300rpm india fox fox, al feco, attention 36, ready for departure feco vende con roger, line up and take off 36, zero discretion wind, 010 degrees, 5 knots copy the wind, line up, india al feco briefing decollo, autorizzazione decollo tenuta, luci atterraggio, on respondere, on charlie, freno parcheggio, rilasciare, finali, libera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Porta Romeo, downway in 3.6 Roma Venegono Roger, reporto il final 3.6 200, PIS in the green, bussola e zero allineati roll in alfeco feco power off power set speed alive enter, right, off, take off speed 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 alfeco air 4net 5,4 milano 124, SM925, buongiorno ciao grazie dopo alfeco up grazie 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 Grazie. Facciamo a identificare Malpensa. Malpensa identificato. Allora siamo su Malnate, reset, time sono i 56. Arona, 260 di Prua. Venegono, Bravo Fox, ready for departure. Bravo Fox, Venegono, Roger, line up and take off, 360 discretion, wind 360 degrees, 4 knots. Line up and take off, 360 in the Bravo Fox. 260 di Prua, la montagnetta là davanti, riferimento, twist, twist per Arona 315. 115. 115. Facciamo gli stimati, allora 56. 56, più 9, F10C. Quilano informazioni, buongiorno, India Delta 169. India Delta 169, Milano, buongiorno, NH 1029. Quilano informazioni, India Delta 169, QNH 1029, ultraleggero avanzato, decollato da Caravaggio ai 56, e diretto a Lima India Papa Mike, che siima i 45 della prossima. Per tempo, sono passati due minuti, due minuti, noi ci dovremmo trovare sul Capolago. India Delta 169, Milano. Praticamente ci siamo, abbiamo calcinate sulla destra. India Delta 169, senza piano di volo e in salita ai 2000 piedi. Facciamo. Mi confermi, Mike Papa Novembre Echo 3 e Casal Maggiore. Casal Maggiore, confermato, India Delta 169. Ricevuto, andrei poi con Parma oppure resti con noi su Casal Maggiore? Preferiamo Parma, India Delta 169, grazie. Ricevuto. Milano, India Sera, Kilo, Yenki Kilo, Over Bellagio, Inbound, Lecco, Again, Entenda, Press. India Charlie, November, Tango, Alpha, Milano. Milano, Information, Good Morning, India Fox, Fox, Alpha, Echo. India Fox, Fox, Alpha, Echo, Milano, Standby. Break, break, India Charlie, November, Tango, Alpha, Milano. Ascerno, Alpha, Alpha. Da parte del radar, posizione in cuota, Esquo, Kidens. Esquo, Kidens, Sera, Alpha. India Fox, Fox, Alpha, Echo, Milano, Buongiorno, il QNH 1029. India Fox, Fox, Alpha, Echo, Canich 1029, Ar Charlie 172 via far flight with no plane plane from Venegono to Venegono with a Cengo in Biella south of Calcinate del Pesce inbound, Arona, Estimate del 05. Milano, India, V, Su, Comapio, 2000, Piedi, abbiamo copiato il traffico. India Fox, Forza, Alpha, Echo, Milano, Roger, UK, Porta, Arona. For information, Charlie 152 in D-Rombo, Porti Romante, in Maggiore 6. Copiato il traffico, Unico, Alpha, Echo. Abbiamo la strada che passa tra i due, la gate, siamo a quattro minuti, quattro minuti dobbiamo essere fatti, quella che è la nostra trua però si sta un po' spostando, e la correggiamo. Allora, vediamo un po', con quattro minuti noi dovremmo essere... Milano, che quota sta mantenendo? E la informazione in via delta 169, 2000, Piedi. Appropriato, grazie. Milano, buongiorno, in via delta 271. Per 5 minuti dovremmo passare tra i due, la Ghenti. Milano, buongiorno. Milano, in via delta 271, tra il giro avanzato del collato da Caravaggio, ai 5, per Marsaglia, ai 5, avanto della prossima. E c'è una strada che passa tra i due, la Ghenti, ed è qua per la ferrovia, anzi. In via delta 271, ve l'hanno ricevuto, lancio 1029, volete poi interessare... C'è un trattico e lo vedo. 1029, affermativo, interesseremo Parma per un attraversamento Roccabianca-Brescello, 3.000 piedi. Si è ricevuto, uno stimato per Roccabianca. Roccabianca stimato ai 2 e 2, senza due sessioni. Allora... Arona è praticamente in pista, quindi Brua verso Arona, e il prossimo sarà Romagnano 220. Milano, Poli Alfa, N7, Poli Alfa, N7, Milano. Leaving como inbound, Whisky 1, estimated at 1,2. And this is possible to coordinate with Linat, for crossing the city. Poli Alfa, N7, roger, report Whisky 1. Qui abbiamo anche delle linee elettere, che noi cambiamo... E' una voce. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Benegone, Mantemito in Como, Saronno. Copy, Polea. 0-3, dobbiamo essere tutti 0-5, da nonno. Andiamo qua. Andiamo qua. Milano, informazioni, Ghiaccio di November Sangobravo. Living in presto, inbound, Calusco. Sangobravo, ringuechere, report reddito, c'è in guido al Brembo. Iguori, report reddito, 3, 4,5. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Chilo, Yankee, Chilo, roger, copy traffic. Chilo, Yankee, Chilo, Chari 172, mantien between Como, Saronno, 2,700. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. NRW, Igu meer, multipla. Comunica, CP, B, C, 4,5. Strusca, portabel, Chalice ARF. Coлед, SR-I, R N, A, sectorox. 1964, IC, R N, A, MC. ATL, unleaded, V,望, Bridge, KNets in 2,600 feet in Poundbrake. Copy, the traffic, 시청. steerıyorum, fox. treffen, Lancet, 1983, Cabral, goals, again, we want you? edy SR, recco, suas integrate, T, 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 T , C1H to 21, B, gentlemen, testo Il 1, 029. Radiale centrata Searone abbiamo anche la nostra ferrovia No però Allora 3.05 Non abbiamo reso Perfetto, allora la prua è la 2.2.0 La nostra montagnetta di riferimento Andiamo a prendere Twist per Romagnano è 2.7.0 Milano informazioni, buongiorno In via Delta 1.6.9 Saliamo a 3.000 piedi Su Rocca Bianca In via Delta 1.6.9 Milano al momento dove si trova? Miglia Delta 1.6.9 24 miglia da Rocca Bianca che stima il 1.9 Ricevuto, contatti Parma sulla 1.27.5.7.5 Milano, l'hotel Tangolima è su Casale procede per Alpenga Quindi abbiamo una grossa strada 2 minuti da Rona Hotel Tangolima Milano ricevuto eviterà la cittiera di Genova 6.9 Affermativo Eviterò Genova Tangolima Tangolima riporti Alpenga attraversando il post è l'antichettissimo ci contatti sulla frequenza Sud 1.28 9.25 modifier E abbiamo Borgo Manero ... Ci siamo Milano, India, para Bracare calo Ludol Carroll breakable local AMB1122605 ciao O2605 Active Paloma ANC Milano, India, FF C AFE, Outbound Arona Inbound Romanano SC M211 PC Milano Roger report ready to change l'audite Allora, intanto siamo a 2 minuti e 30, praticamente a 3 minuti e passiamo attraverso sud di Borgo Manero. Infatti a 3 minuti dovrei essere attraverso sud di Borgo Manero e ci sono, perfetto, altro romaniano è già in vista là, leggermente, corre con leggermente la prua. Abbiamo l'autostrada che ci delimita anche la Czr di Valpeso, praticamente. Ecco, bravo, 128, 555, ciao, grazie, ecco, bravo. Ciao, 935, più o meno, 4 minuti, siamo un paesino di là e però non mi sembra segnato. Romagnano è in vista, e dopo Romagnano sarà Biella Nord, 2539, 255. Unifor piano di volo, Vittor, Biella, Cannes, lasciato il campo di Biella, chiedevamo un coordinamento... Romagnano dovrebbe essere il G1-1, che fa 2 minuti. Sì. Sì, c'è avuto, coordiniamo e la richiamo. Roger. Ciao, grazie mille. Papo del Mike Golf, Giuliette, Milano, può contattare Torino Radar, 129275, ciao. 129275, ciao, grazie. E direi che siamo abbastanza sicuri che sia Romagnano. Da poco vedremo il Sesia, anzi comincio già a entra vedere, c'è la collinetta. Sesia, dovremmo vedere anche il ponte con la ferrovia. Milano, indietro, 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 maico. India, Chilo, India, Limaeco, Milano. Papo Alfa 28, da Bresso a Montichiari, senza piano di volo, lasciato la zona di Bresso, il Mahon da Bresso, poi l'ingresso per Montichiari, che stimiamo fra 20 primi. Allora, siamo su Romagnano, il ponte, la ferrovia, Sesia, identificato. Allora, 3-7, sono E11, e arrivo a E11, quindi non abbiamo reto. Romagnano, la radiale, Pimpiella Nord, 253. Bravo Golf, Bravo Golf, buongiorno, 1029. resta è Cattinara. Sì, bravo Golf, ho ricevuto, richiami lasciando per il coordinamento con Bresso. Ok, e adesso, Pimpiella Nord, devo inserire, Pimpiella, identifico. è identificato, è identificato. Time turn, twist, Pimpiella, Pimpiella Nord, la radiale, Pimpiella, 1-6-0. TOLC non lo faccio, però 4610. Qui c'è una strada che praticamente va praticamente alla nostra stessa direzione. se io seguo questa, arrivo a Pimpiella, vediamolo. L'invia col delta, Roma X, Milano ricevuto, riporti pronto al cambio con Bresso. L'invia col delta, Roma X, Milano ricevuto, riporti pronto al cambio con Bresso. L'invia col delta, Roma X. L'invia col delta, Roma X, Milano ricevuto, riporti pronto al cambio con Bresso. L'invia col delta, Roma X, Milano ricevuto, riporti pronto al cambio con Parma. Riporteremo un prossimo cambio, dopo due stazioni. Direi dunque, vediamo un poco, siamo a 2 minuti India, bravo, Foxtrot, India, India, Milano, vi diceva? 3 minuti Comunicazione, Rattori, bravo, Foxtrot? No, negativo Anche tu, scusa India, bravo, Foxtrot, India, India, Bungosiera, Milano, vi diceva? Direi che quella potrebbe anche già essere la città Bella Allora qui a 3 minuti dovremmo avere un piccolo corso d'acqua che abbiamo qua sotto Abbiamo anche una strada 3 minuti Parti, la qua Perfetto Allora siamo anche all'ultimo All'ultimo leg Approach briefing Lima India, Lima Econ, Biella, Cervione Elevation 920, 4 circuito sarà 1900 Non interesserà l'aeroporto Non interesserà l'aeroporto, poi rientra E Biella è 123 Decimali 050 Sarà un avvicinamento da Biella Nord, dopodiché un diretto 1-6 o un sottovento sinistro 3-4 Approach briefing E' completato, siamo a 4 minuti Vediamo un po' che dovrei vedere, dovrei vedere a 4 minuti Dopodiché un po' che dovrei avere un paesino poco più avanti sulla destra e lo vedo Allora qui sotto inoltre ci sta passando una strada Circa 6 minuti e l'abbiamo qua Perfetto Via Delta 271, 10 milioni a nautica a nord di Roca Bianca, Borussia, cambio comparto Via Delta 271, Parma, 127, 575, ciao 127, 575, Delta 261 Questo è raccossato quindi Poi mi dovrei trovare leggermente più Eccoli il ponte di Biella Nord Milano, buongiorno, radio, Charlie, 575, Ultralight Porto Via Charlie, 575, Milano, buongiorno, qui neccolo 029 029, radio, Charlie, 575, Ultralight, da Cissago, da Rossa Senza piano di vola, lasciato Cissago da due premi, 1300 piedi In salita a 2000, Quark 4611, Charlie, il transponder, cima Venegono, ai 45 Indy, Charlie, 575, ricevuto, evitando spazieri controllati, puoi riportare Venegono in via Si, riportare Venegono, Indy, Charlie, 575 Indy, Alfa Eco, with a Biella in sight, ready to change with local Indy, Alfa Eco, 12305, Vienna, ciao 12305, ciao, Grazie, Alfa Eco Indy, bravo, porto 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 belinfo 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 Torano 1-6, Piela Nord, now a feco. Forlong final 1-6. Final 1-6, a feco. Sede Alise Live. Dentro commerciale, il ponte, siamo a Biella Nord. Ve l'ho anche già rallentato, sono circa a 90. Facciamo la virata per aspettare la radiale. Ok. Allora, abbiamo un po' di sole, come previsto, che ci rompa. Abbiamo anche l'aeroporto in finta. Allora, rallentiamo ancora un po'. Ok, approccio checklist. Master switch on, magnetos both. Breakers in, landing lights on. Carburetor air, lo lasciamo così. Mixture reach, flap. Flap as required, allora. Mettiamo un po'. Flap. Abbiamo ancora un attacca. Clear selector both, ok. Vista in vista. Bredain in Alpha e Compao. Mantengo i 3500. Stealth in Alpha e Compao. Mettiamo i 3500F sulla verticale. Versicza. Via la setia, lo mantiene. Via una faccia una velocità. Auto Non sentite debole, solo la pilota, ha lasciato la città presina a Maseca Finale 1-6 l'Alfeco Finale 1-6 l'Alfeco Finale 1-6 l'Alfeco Foxbox Alfeco, t'accendo la discrezione, vento calma al suolo Alfeco Caps full, la velocità è un po' bassa, la vuota è un po' bassa Giusto 6 l'Alfeco Iroco Quersi 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 Il live power set, roll Colgozzi, Verone 3000, approcci a lasciare per il scanto Piazzo, riportate il campo in vista, preferenzia 1-6, vento calmo, H1028 3, flaps up 4, landing lights off, after take off, flaps up, landing lights off, after take off completed Emanet 23 news, Alfa Eco is leaving the circuit and directing Biella north India Fox, posto Alfa Eco, copy report, north of Biella, confirm, maintain 2000 feet on QNH1028 Climbing 1300 now, climbing 2000, Alfa Eco India Fox, posto Alfa Eco, copy, record di biniera, traffic information, Papa Alfa 34, maintain between Biella and over and over, the field 3,500 feet Copy, Alfa Eco India Papa Victor, Alfa Eco, Biella Vatti Informazione di traffico, Charlie 172, volo solo pilota, lascia il circuito sotto vento destro in Bambiella, 2000 piedi Sempre a 3-5, fra centro della pista e centro della città C1 Olgothian sotto vento, Colastro Eco in vista Inviato, conferma il Charlie 172 Affermativo, Charlie 172, India Fox, posto Alfa Eco in vista Ricevuto il traffico, lascia in Bambiella, riporti in base destro, conferma Olgothian Olgothian Paralancetto commerciale Oralancetto commerciale Grazie a tutti. Allora Biela Nord, poi sarà Romagnano 075. In base a Corcosa. In base a C-9, Corcosa. Biela, informazioni buongiorno, Galfa, India, Lambert Delta. Lambert Delta, Biela, buongiorno, R-5, stop parare o tra zero. Biela, informazioni, Ligia, Alfa, India, Nd, Lambert Delta, L-172, volo turistico, due persone a bordo, senza piano di volo da Biela, Bergamo, Rio Serio, alla colonnina, informazione alla partenza. Porti pronto, attesa, 1-6, H-1028. Riporterà, punto attesa, per pista 1-6, H-1028, Alfa, India, Nd. Biela Nord, Alfa, eco, resist change. Biela, F-5, copy, Milano, 1249, R-25, bye. 1249, R-25, ciao, grazie, Alfa, eco. Ciao. Andiamo su, non per reset, 3-0. Stop, Biela, stop, Biela. Grazie a discrezione, metto calmo al suolo. Nd per Romagnano, vedete 075. Allora, non abbiamo tantissimi riferimenti qua. No, non abbiamo tantissimi riferimenti qua. F-5, ricevuto, riporto pronto a cambio con Bergamo. In via Fox, Alfa, eco, back with you. In via Fox, Fox, Alfa, eco, Milano, good morning, again, QNH-1030. QNH-1030, in via Fox, Alfa, eco, Charlie, 202, via Startlight, wind, non flè, blè, non benegono, non benegono, non benegono, with accenco in Biela, over, outbound Biela Nord, 3-0, inbound Romagnano, 3-9. Allora, Gianluca, report, race to change with Venegono, Charlie, 152, leaving, Maggiore, leg, 2-Biela. Copio del traffic, qui, colpa, eco, dopo. Indy Alfa, Victor, India, Victor, Milano, ti informo di un Charlie, 172, lasciato Biela Nord per Romagnano, poi Arona. Allora, qua siamo su un Cossato, il Cossato mi dovrei trovare, mi dovrei trovare leggermente sulla destra, però... Sì, io sono... vado a correggere un attimo. 6MV, noi siamo molto a nord sulle montagne, 5000 piedi, siamo fuori da tutto, siamo anche pronti a cambiare con via Caminna. GnH 1029, Fox, Russia, India. Fox, Oscar, India, Victor, do you want to pick up IFR inbound Tango, Oscar, Papa, and maintain level 135 for the moment? Eh, it's possible for us, IFR pick up at Tango, Oscar, Papa, flight level 135 for the moment. Il fatto dovrebbe essere più o meno ai 3 minuti, e quello ci siamo, perché siamo a 3 minuti adesso, devo solo recuperare un pochino. Via Delta 271, Milano, buongiorno di nuovo, lei vorrà interessare o eviterà lo spazio di Bologna? Ricevuto, potete riportare pronti al cambio. Posso... Entere... Milano, Tampago Giuliet, saliremo a livello 110 per l'attraversamento. Lei che chiama Milano? Tampago Giuliet, saliremo a livello 110 per l'attraversare. Perizio, Tampago Giuliet. Si sono già le collinanti di Romagnano. Il vigilante di Romagnano, Romagnano. Trovai essere su Romagnano, tra i 6 minuti. India Victor, ricevuto, Biella, 12305, ciao. 2305, ciao, buon lavoro. Milano Sera Papa Palfaro 2X e il prossimo a UNITAC, cambierebbe con Genova Sera Papa Palfaro 2X3196 Genova, una buona giornata 196, ciao, grazie mille Milano, informazioni buongiorno, via Delta 200 Via Delta 200, Milano buongiorno, QNH 1030 1030 QNH, via Delta 200 Allora, siamo a 4 minuti più o meno, abbiamo una stradina che ci sta passando sotto Ed è questa qua Ok Per vostra informazione, via Delta 200, 2000 piedi su Calusco e guarderà fuori Ricevuto Milano, informazioni, India, Gol Delta, Rome X-ray, buongiorno India, Gol Delta, Rome X-ray, Milano buongiorno di nuovo, rientra da Como Allora, però io non ho fatto una bella cosa, Romagnano, Romagnano, Romagnano 270 di Valpensa, radio Appensa 加iamo a rinuncare ALL workshops, quindi stabilmente Deve essere 9 minuti, 25, 47, ok, abbiamo anche una strada praticamente sopra che ci scorre Però qui non abbiamo Buon trezzo, 25, procede per l'alzata ebrianza via Calusco, stima alzate ai 48, 47 Gli Alfalfa ricevuto, prezzi attenzioni, probabilmente la zona acrobatica di alzate potrebbe essere ingaggiata con un'aliente all'interno Passiamo su piatto, lo andiamo fuori, grazie Ecco la cupola di Romagnano, quindi Romagnano identificato, in Venezia, quindi... Milano, lo del Bravo Chilo Tangolima e a 5 primi da Monaco e cambierei per con Nizza Gli Alfalfa del Bravo Chilo Tangolima, Nizza, 12085. Ciao Implemento Cento doctrina, San Nobel Kilo sashari ckeo Challari Delta eco, edelto Sgar Milli, milano ciao, QNH 1029 An Sofia 1029, siamo Charly 210, da Torino a pubblico in volo locale Siamo inbound all'Agen, andiamo sull'Agen e poi rientriamo Abbiamo 34 miglia per il Lagen, 6 mila piedi in salita per livello di volo 80 Delta Eco Delta Scarciarli Scarciarli oggi ti invidio, vuoi interessare Genova dopo l'Agen? Sì perché saremo già dentro Genova sull'Agen Delta Eco Delta Scarciarli, oggi è una bellissima giornata, è vero? Sono qua, ti coordino con Genova e puoi riportare prima dell'interessamento Questa è Gattinara e quella è Romagnano Identificata, abbiamo il ponte per la ferrovia, abbiamo il Segna che passa Prossimo a Como, 3 mila piedi, scenderà poi a 1.500 km per l'Ago E quindi perderemo il collegamento Il Tosca ricevuto, ci risentiamo poi a rientro per Bergamo Ci risentiamo a rientro, India, però a Rolta Oscar Allora, dopo Romagnano sarà Rolta 040 Rolta Oscar, che chiamo, Milano? Sì, India, Tango, Bravo, Foxtrot India, India, Tango, Bravo, Foxtrot, Milano, buongiorno Nel senso pieno di volo, Delta Romeo 4.0.0 Dalla Ritalia a Caldegna, abbiamo la Cato Brahe, ma un da Ceva 3.500 piedi, scendiamo a Scema fra i piedi primi Bravo, Foxtrot ricevuto, il QNH 1.0.29 Ciao Ok, siamo a 2.000, siamo su Romagnano 4.6, 1.2, Romagnano 4.40, 4.40, 5.40, 5.40 4.4, Romagnano, per Arona 040 4.2, via DL 2.0 4.0, praticamente Arona è già in vista Va bene Time turn Twist su Arona, la radialia è a 350 V Passare chi chiama a Milano? De Ciancoli Milano, arrivo a Ritable Milano Delta 4 Fox, prossimo Sierra, 125 875, ciao grazie Roro, dovrebbe essere fra 6 minuti Ciao Fox, Ignatango, bravo Fox, si è pronto a cambio? Fossivo, ci sappiamo No, ci hanno chiamato per un cambio, ma non ho occupato serie 2 No, no, Delta Eco Kilo, Fox Fox, Conorio, 125 875 È corretto, ciao, buona giornata Ciao Minano, Golgi, Presangu, Calice Allora, sono passati il minuto 30 da Romagnano 30 da Romagnano, a 3 minuti dovrei essere sopra Borgo Manero Che abbiamo qui di fronte Quindi dicevo che ci siamo Minano, Tango, voi per massa volete interessare Pisa? Preciuto Informazioni in Pia Romeo X-ray Minano, Tango, bravo Foxtrot, dopo Sierra, può interessare Genova o sarà in Spazio Golf? Fossivo, è stato Air Gold, facciamo un gara estro e per una discusa poi su Albeghe Trisciuto In all'information in Dianco 2 minuti rinuniamo, Buon anno, siamo pronti per cambiare il local Dianco, 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 sto salendo Leggermente in anticipo 3 minuti su Borgo Manero Ci siamo, ci siamo, perfetti direi Milano, inghiacciarli 575, di nuovo con voi Inghiazarli 575, buongiorno di nuovo Inghiazarli 575, su Venegono, 3.000 piedi in questo momento Sì, Maivrea, gli 1.3, alla prossima 575, Milano ricevuto e puoi ripetere l'osservato di Ivrea 1.3, inghiacciarli 575 Ricevuto, riporti Ivrea, siano G7, ossa 119.95 Con la ossa 119.95, in caso fosse in negativo con voi Milano, inghiacciarli, india sierra, chilo, ienchi, chilo India, sierra, chilo, ienchi, chilo, buongiorno a voi Dico in anche 1029 1029, india, sierra, chilo, ienchi, chilo È un volo da presto a presto, due persone, di 2002 Senza piano di volo, possibilmente un touch e go su Orio Passando da nord 10, chilo ricevuto, vi coordiniamo con Bergamo Avete uno stimato per il novembre Allora, il salto è in quista India, sierra, chilo, ienchi, chilo Ricevuto Arona è in quista India Romeo X-ray, è come in quista Cambio per la locale 121, decimali 005 Vix-ray, corretto, ciao, buona giornata Arrivederci, gatti Vi dà le informazioni, India Romeo Victor, Alfagolfo, buongiorno India Romeo Victor, Alfagolfo, buongiorno, 1029 QNH Siamo a 4.30, quindi siamo a 4.30, andiamo a vedere È una strada che passa sotto l'autostrada Tipo di aeromobile Allora, ok, c'è l'entrì Parroggio Milano, information, buongiorno, Poli, Alfa 97, no frequency Alfa 97, Milano, buongiorno, QNH 1029 1029, are leaving with Q1, Orio, CTR inbound, Saronno, estimated at 5, 4, maintaining 1,100 hits Poli, Alfa 97, riporto Saronno, after Saronno, do you want to come back to Malpensa? No, we want to go to Varese and then entering from the west side Parroggio, riporto Saronno Milano, buongiorno, November 972, coi uniform November 972, coi uniform, Milano, buongiorno C'è la 22 tango, buongiorno, senza piano, da Bresto, da Diego E abbiamo Ha lasciato Serenio dal primo Parroggio Inbound a Ruvav, che stima i 5, 1, senza interessare il CTR di Bergamo Quindi a nord il CTR di Bergamo Due persone a bordo, 4612 Il parroggio sarà mandato 0.0 Vedremo fuori, qui ci sono Milano, buongiorno, bravo Papa, hotel Tango, Milano Milano, November 424, alfa, approaching, bravo, libera, alfa, flight 1, 1, 2, 0 November 424, alfa, Milano, good take, in edge, 1, 0, 2, 9, do we have an estimate time to... Allora, reset, time sono 4, 6 4, 6, 5, 4, 6, 5, corretto, 0, 8, 0 Milano, formazione buongiorno, di alfa, indianove, delta Prova Sv4, 2, F4, 2, F4, it's about 15 minutes, inbound for the ILS 727 Pronto, riporto, resce Guita Osta, in Chesano, Contra Guita Osta, Osta is 1, 1, 9, 9, 5 8, 0, di prova Superbarone, la radiale, è la... sua parola locale su Marangelo, la radiale è la 040 indialfa 879, Milano, ricevuto, chiudiamo, hai 4, 7, ciao Milano, informazione buongiorno, indialfa, indialue per delta Estamos anche nell'ultimo lag, quindi approcci per il fin Ross Briefing Lima India Lima November Venegono Varese FILE 1050 1050, quindi 2000, la porta di circuito, Milano Venegono Radio 1 di 8 decimali E arriveremo al nord da Malnate per un, molto probabilmente, sottovento sinistro 36 o eventualmente uno straight-in-1-1-2 Siamo a 2 minuti lasciata a Rona 2 minuti lasciata a Rona, ci dovrebbero essere i collinetti, ci dovrebbe essere una strada subito sotto Andiamo qua, abbiamo una macchina Poi dovrei passare sui due laghetti, più o meno a 3 minuti e mezzo Ecco che praticamente abbiamo un laghetto Delta, ecco, delta, Oscar, Charlie, puoi contattare Genova, 119.6, a dopo Ora quanto è per Malnate? 9 minuti Milano, informazioni, buongiorno, dai Sia Fabrizio Delta, ecco, delta, Oscar, Charlie, mi ricevi? Grazie 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 Ora li abbiamo calcinate, vediamo un po' quando dovrebbe essere attraverso il sud di calcinate, più o meno a 5 minuti e mezzo. Milano, informazioni, buongiorno da India, Papa India, November Tango. India, Papa India, November Tango, Milano, buongiorno. Buongiorno Milano, India, Papa India, November Tango, Charlie 172, decollato alle 44 da Carpi, diretto a Valbrembo, attualmente attraverso di Guastana. 2.010, senza piano di volo, una persona a bordo, 4 ore di autonomia. Ricevuto, la Conecton 029, il prossimo punto con uno stimato? Il prossimo punto è con uno stimato, potrebbe essere un attimo? Milano, da Golf, Michael, Vex Tango, Master C40, pista, cambio sulla locale, 1, 2, 0, 3, 6, 6. Tango è corretto, ciao, buona giornata. Milano, India, Sierra, Kilo, Yechichilo, prossimo November di Orio, pronto a cambiare? India, Sierra, Kilo, Yechichilo, Bergamo, 1, 2, 5, 8, 7, 5, ciao. 1, 2, 5, 8, 7, 5, ciao. Milano, India, Fox, North, Alpeco, stato scalcinato, rispetto a change in Venegono. Alpeco, Roger, 128, 555, ciao. 128, 555, ciao, grazie, a presto. Milano, India, Papa India, November Tango, il prossimo punto, potrebbe essere... Quella è la montagnetta. Ehm, malnate. 6,5, 6,5. Quello dovrebbe essere, lo vedo bene, in Campanile. La prua anche c'è, la quota è leggera. Ehm, ora, siamo a 6 minuti, dovremmo essere a Capolago, praticamente. Siamo a 6 minuti, dovremmo essere a Capolago, infatti ci siamo. Siamo a 6 minuti, siamo a 5 minuti, sono a 5 minuti, sono a 5 minuti, sono a 5 minuti, Siamo a... FF, FF, Vega, Roger, 36, preferential, QNH, 102, Nr, report malnate, traffic information, Papa, 28, take off, flag. Copies il traffic, 36, 10, 29, will call, take off. Sera, Sera, Kiro, Kiro. Copies il traffico. Sera, Sergio. Ciao Fabio. Ciao Teo. Posso? Tu te a posto. Ok dai, io terrò all'11.30, se riesci aspettami. Ok. Regolo Charlie Oscar, sottamento a sinistro, 3.6. Charlie Oscar, Regolo ricevuto, riporto al finale, 3.6. Sottamento a sinistro, numero 1, Charlie Oscar. Regolo, IGN-SR a KiloKilo, leaving with Milan information. 124, DCM-Linear 25, Milano, KiloKilo. 124, DCM-Linear 25, IGN-SR a KiloKilo. Regolo Radio, buongiorno, IGN-SR, ecco bravo. India, IGN-SR a KiloKilo, benegono, buongiorno a lei. Venegono, l'India, IGN-SR a KiloKilo, un Charlie 172 via FR, Venegono, Venegono, senza piano al parcheggio, richiede informazione a rullaggio. India, ecco bravo, Venegono ricevuto, preferenziale 3.6, QNH 1.0.2.9, rullo punto attesa 3.6 via Alfa. 3.6 preferenziale, 1.0.2.9, l'H, rulla via Alfa per la 3.6, India, ecco bravo. Ecco bravo, Venegono, lascia la zona, interrogativo. Affermativo, ricco bravo. Copiato. Di rimallate, Alfa Eco. Alfa Eco, Venegono, roger, report, Danwin-36, number 2, number 1, is on final. Vigo, copiato di traffico, Alfa Eco. Venegono Radio, da India, Tango, Oscar, November, Delta, buongiorno di nuovo. India, Tango, Oscar, November, Delta, Venegono. India, November, Delta, 2.500 piedi sul 1.029, 2.000 ovest, il vostro campo, attraverseremo 2.500 e lasceremo a Tradazio. India, Tango, Oscar, November, Delta, Venegono, la preferenziale, la 3.6, QNH 1.0.2.9, la informo di due traffici operanti nel circuito, prossimo al finale e un alto tasso tradizionale in sottovento. 2.500 piedi, riporti, attraversamento completato. India, Verdezza, 1.029, bianco, piatto di traffico, manteniamo 2.5, rifluteremo lasciando a Tradazio. Allora, approccio checklist, master switch on, magnetos, both breakers, landing lights on, carburator air, guarda, 3.6, Tango, avvice, 047, 4.6, D любим, tacky, V, O, K. Andiamo a mettere, 1.4. Downwind, 3.6, a Feco. A Feco, V, R, report B4, base, 3.6. F, again, a Feco. A Feco, report B4, turning base, 4.3.6. A Feco. Venegono, Navio, India, Tangosca, Novembra Delta, in discesa per 2.000 su tradate, cambiamo con Milano in formazione, 124-925. Novembra Delta, Venegono è corretto, un buongiorno. Grazie a tutti. D4B, Alfeco. Alfeco, Venegono, Roger, report final 36, number 1. Number 1, Alfeco. Venegono, Radio, Ingegner, Sereco, Bravo, Punta Tesa, Alfa, pronta la partenza. Bravo, Venegono, ho ricevuto, mantenga posizionale, chiamo io. Sareco, Bravo. Venegono, Sardio Oscar, Sardio Oscar, sottovento 36. Sardio Oscar, Venegono, ho ricevuto, riporti prima della virata in base. Sardio Oscar, final 36, Alfeco. Sardio Oscar, Venegono, Roger, landing at your discretion on 36, guinda 360 degrees, 4 knots. Alfeco. Sardio Oscar, final check list, power set, flap set, required car violetta rear, off. Due nodi. O poi sarebbero miglia, ma porta. Grazie a tutti. via in base del Charlie Oscar Alfaico atterrato sull'ora, a destra via Charlie a destra via Charlie, Alfaico Becchetti Venegono Radio, India Charlie Charlie Bravo Fox, buongiorno India Charlie Bravo Fox, trotta Venegono, buongiorno Venegono Radio, India Charlie Charlie Bravo Fox Charlie 172, volo locale, Venegono, Venegono VFR with no flight plan, India 12 on board and parking area, request action instructions India Charlie Charlie Bravo Fox, trotta instructor 12 on board is copy, preferential 36, KNH 1029, taxi all short 36 via Alfa liberato l'A36 da Alfaico infezione calma di vento è liberato l'A36 da Alfaico ok, runway 36, KNH 1029, internazioni calma di vento cosa attraggio, pista libera leggo off action on, flaps, nap, transponder è liberato l'A36 da Alfaico, è liberato l'A36, KNH 1029, rullo, punto attesa 36 via Alfa punto attesa 36 via Alfa, 1029, la 9 del Bravo ecco, bravo, Venegono avanti Alina Menzio attesa, pista 36 si allinea attenta Alfa, si allinea attende, le cobrano andiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco, bravo, Venegono, decolla, discazione 36, calma di vento ecco, bravo precedente bravo Foxtrot qui dietro a destra, libero, si a destra, libero, si che è lo che siamo qua che è lo che siamo qua Venegono, torliosca, sottovento, tra sei torliosca, Venegono, ricevuto, riporti prima della virata in base ok allora marcheggio, freno, parcheggio, sette, luce, taxi off, luce, navigazione off radio, off grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.